Un consiglio comunale incentrato sui regolamenti, quello di ieri sera a Palazzo San Francesco. Voto favorevole su tutto, dalle modifiche al regolamento generale delle entrate, all'approvazione per le riprese audiovisive delle sedute, fino alla regolamentazione del commercio su aree pubbliche. Per le riprese degli operatori dell'informazione nel corso dell'assise, ci sarà ora bisogno di una sorta di accredito annuale. Solo quello infatti darà l'autorizzazione a registrare immagini, quindi vietate, anche le registrazioni con i cellulari e non legittimati. E risvolti positivi per i contribuenti arrivano dal regolamento delle entrate, che va a disciplinare il rapporto con l'ente comunale per quanto concerne i tributi. Anzitutto è stato previsto un maggiore numero di rate per somme fino a 50.000 euro ed è stato assorbito nel regolamento l'istituto della compensazione per chi erroneamente ha pagato tributi in più. Abbiamo riformato due articoli del regolamento delle entrate. Quello più importante come impatto è sicuramente quello che riguarda la possibilità di accedere a sistemi di rateizzazione molto più lunghi, quindi molto ma molto più favorevoli per i contribuenti, anche senza garanzie fino a certe somme. Il vecchio regolamento prevedeva per esempio che fino a 5.000 euro si dovesse fare poi per le somme successive addirittura una polizza fidei ossioria. Noi abbiamo tolto questa forma di garanzia, l'abbiamo messa chiaramente per le somme più alte tipo 50.000 euro. Abbiamo ampliato il numero delle rate possibili anche per i piccoli importi che riguardano i piccoli contribuenti, così come per i grandi importi che riguardano poi le utenze più esposte dal punto di vista tributario. Poi c'è anche l'introduzione di un istituto che vige dal 2006. Noi l'abbiamo finalmente assorbito nel regolamento che è quello della compensazione. Contribuenti che magari hanno versato più su un tributo, erroneamente, invece di abbandonarsi a far ragginosi rimborsi e poi pagare potranno contemporaneamente versare queste somme su altri tributi rispetto ai quali sono scoperti.